E' stato un festival francescano differente ma non per questo meno coinvolgente. Le norme anti-covid hanno costretto l'organizzazione a ridurre il numero dei partecipanti agli eventi in presenza ma hanno anche permesso al festival di sbarcare sul web e allargarsi ad altre piazze italiane. Il contatore delle visualizzazioni degli eventi streaming e online ha superato quota 200.000 e oltre 2.000 persone si sono riunite nelle piazze virtuali e non sparse in tutta Italia. E' andata molto bene, il MOFRA dell'Emilia Romagna di cui io sono presidente per questo triennio ha accettato questa sfida che è stata un'occasione anche per essere un segno di speranza in questo tempo che è davvero complesso. Le presenze ci sono state, ovviamente contingentate e anche talvolta un po' limitate dal tempo ma abbiamo avuto la possibilità di oltrepassare i confini attraverso tanti canali social e quindi questo ci ha aiutato tantissimo. L'economia non può tollerare la povertà o meglio, l'economia deve sconfiggere la povertà. E' la vera battaglia dell'economia, aiutare chi resta indietro e chi ha più necessità. Quindi il peso deve essere tanto e in un momento come questo in cui di ricostruzione o in cui dobbiamo correggere i problemi che si sono manifestati evidentemente evidenti con la pandemia credo che dobbiamo proprio avere un'economia che faccia della lotta alla povertà il suo obiettivo. Se c'è la dittatura dell'economia vuol dire che c'è qualcuno che è suddito della dittatura, che è l'uomo e l'economia deve essere per l'uomo, quindi non può essere una dittatura. Dobbiamo al contrario mettere al centro l'uomo perché l'economia trovi se stessa, l'economia ha senso e funziona se ha al centro l'uomo, altrimenti diventa appunto. Una dittatura è quindi molto pericolosa perché come nelle dittature c'è qualcuno che guadagna e molti che in realtà perdono. I tre giorni del festival hanno avuto come filo conduttore l'economia gentile, tema che è stato anche al centro dell'omelia pronunciata dal cardinale Matteo Zuppi durante la messa celebrata in Piazza Maggiore. E di economia si parlerà anche nella prossima edizione del festival. La speranza degli organizzatori è quella di poter tornare al format tradizionale, arricchito da qualche nuova formula sperimentata quest'anno.